Un celebre aforisma di Oscar Wilde recita L'ambizione è l'ultimo rifugio del fallito Se la saggezza popolare invita l'uomo ad imparare a guardarsi dai bugiardi e dagli adulatori è altrettanto importante sapersi guardare dagli ambiziosi, dai lupi travestiti d'agnello Essere ambiziosi è molto diverso dall'essere volenterosi Perché se la persona animata da buona volontà è guidata dal desiderio di migliorare il mondo attraverso le sue azioni l'ambizioso al contrario agisce solo per interesse personale ed egoistico Ciò che per lui conta di più è il successo, l'acclamazione, il proprio tornaconto La persona animata da spirito etico e dalla legge morale agisce per volontà di fare del bene come per un vero medico e la salute del paziente è la sua più grande ricompensa Per l'ambizioso invece non esiste sacralità Tutto è sacrificabile sull'altare dei suoi bisogni personali L'ambizione può avere delle conseguenze disastrose per l'individuo che ne è posseduto Pensiamo a personaggi come Putin che accecati dalla loro ambizione non esiterebbero un momento dal cancellare il pianeta così come tutti gli innumerevoli dittatori, conquistatori, criminali e assassini della storia Ma anche nella vita comune l'ambizione può distruggere le amicizie, i rapporti familiari far perdere il contatto con la realtà Ovviamente assenza di ambizione non vuol dire apatia, picrizia o indolenza ma capacità di subordinare i propri interessi personali al benessere comune vuol dire in sintesi imparare ad essere umili I personaggi ambiziosi sono purtroppo quelli che in genere fanno più presa sulle masse rozze e incolte perché esprimono tutto ciò che vi è di più basso nell'uomo l'arroganza, la prepotenza, l'invidia, lo spirito di divalsa ragion per cui i personaggi improponibili della politica, del mondo dello spettacolo e dell'economia o criminali come Hitler, Stalin e Mussolini guidati dalla loro brama di potere sono riusciti a conquistare il furore delle folle L'ambizione riesce a far presa sull'insicurezza dell'uomo che ha bisogno di essere acclamato dagli altri sull'impotente che deve misurare il suo strumento per fare il confronto con il vicino ed è a causa dell'ambizione che l'arroganza, la violenza, l'invidia, l'odio e il caos si diffondono come un cancro sulla terra avvelenando i rapporti umani che andrebbero vissuti con spirito di fratellanza, collaborazione e solidarietà Lo schiavo ha un solo padrone, scrive Jean de la Bruyère L'ambizioso ne ha tanti quante sono le persone utili alla sua fortuna L'ambizioso ne ha tanti quante sono le persone utili alla sua fortuna L'ambizioso ne ha tanti quante sono le persone utili alla sua fortuna